salve a tutti ragazzi siamo qui su ps war 120 hertz questo qui è cargo bridge è uno shooter horror quindi si spara tutto quello che capita insomma si prenderanno altre armi in seguito comunque il tracciamento che sto usando è kinet v2 driver 4 war sto utilizzando ps move come controller quindi il dettaglio l'ho imposta tutta d'ultra usando il super sampling al massimo e adesso andiamo a vedere insieme che cosa anche cosa consiste questo gioco così faccio sto gioco così così faccio questo quindi così si va questo così va questo così si fa questo con questo si sposta ci si va avanti in pratica consiste ne uccidere queste questi mostri insettacci bruttissimi spara un po tutto quello che che si muove avanti dov'è sta sto maledetto dov'è sbucano come i funghi però andando sta sto coso brutto devo dire che l'audio di questo gioco mi fa impazzire ok non ho dimenticato eccolo infatti ne avevo dimenticato uno c'è sta un altro sto maledetto dove stai coso brutto no 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 che goodbye già mi hanno ucciso mannaggia dai velocemente rifacciamo un'altra continue ok dai dammi qui ok si di nuovo vabbè così va questo e così fa questo ok scusa quello che mi ha ammazzato prima maledetto schifoso a mosche brutte cioè non mi puoi ammazzare così quando stanno non si vedono sti casi brutti talmente piccoletti ma da dove stai morta è sto maledetto no 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 un attimo ripiare anche se no eccola sto maledetto finché non è uscito non mi apre le porte quindi devo comunque usciterli tutti sti casi brutti sono usciti a capire ma tu sbucano vedi che l'ancora non l'ho ucciso tutti sparo con sto vuci alto che l'ancora non mi bontà che l'ancora che l'ancora non mi no 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 Brutti. Che è là? Mi stai aspettando, ha un fame. Oh, ecchi qua. Congratulation, mi ha detto. Oh. No, vedo che mi hanno ucciso. Bene ragazzi, per questo gameplay è tutto, vi saluto per qualsiasi cosa. Se avete problemi con PS UR, se avete delle problematiche potete scrivermi in privato, lasciate qualche commento sotto i video e cercherò di aiutarvi. Quindi vi ringrazio per aver visto questo gameplay, vi saluto, alla prossima. Grazie. Grazie.